C2 Backup e C2 Password. Proteggere i dati su PC, Workstation e Server. Synology propone due strumenti per creare backup automatici e centralizzati del contenuto di PC, Workstation e Server. C2 Backup è una soluzione che azzera la complessità delle configurazioni hardware e software e permette di proteggere i dati in modo efficace. C2 Password è gratuito e aiuta gli utenti a gestire e sincronizzare in sicurezza le proprie credenziali di accesso. Proteggere i dati e applicare politiche di backup efficaci è essenziale per mantenere la continuità operativa anche in caso di incidenti. Abilitare la tecnica Ride su Server, Workstation e NASA è certamente buona cosa ma in caso di disastri può non essere sufficiente. Si pensi a un sistema che viene fisicamente danneggiato o sottratto. In queste situazioni i dati che per maggior sicurezza sono stati copiati su più unità non risulteranno recuperabili. Per non parlare del fatto che in molti casi il versioning non viene attivato quindi non è possibile risalire al contenuto di una cartella o di una versione precedente dello stesso file. Si pensi a un documento modificato in modo maldestro o a un'aggressione ransomware. Con la piattaforma Synology C2 i dati aziendali del professionista e dell'utente privato vengono gestiti in totale sicurezza e con un approccio centralizzato. Obiettivo di Synology C2 è quello di snellire la complessità nella gestione delle configurazioni hardware e software. Formata da diversi moduli che si occupano di gestire a 360 gradi le esigenze di privati, professionisti e aziende in tema di protezione. Dei dati, Synology C2 consta di due vere e proprie punte di diamante. La prima si chiama C2 Backup ed è una soluzione centralizzata per proteggere i workload aziendali e personali tenendo i dati al sicuro. Punto e virgola la seconda è C2 Password, uno strumento evoluto per salvare, sincronizzare e gestire le credenziali di accesso avendole sempre a disposizione dove e quando serve. Cos'è e come funziona Synology C2 Backup? Alla base di C2 Backup vi è la volontà di rivoluzionare il concetto di backup tradizionale non limitandosi più soltanto ai file ma anche alla creazione di copie di sicurezza delle applicazioni e del contenuto di interi PC, cosiddetto Backup Bar e Metal. L'utente o l'amministratore del servizio non devono fare altro che pianificare la periodicità con cui devono essere creati i vari. Backup su ciascuna macchina e C2 Backup penserà al resto. Il backup può essere programmato a un orario preciso oppure configurato in maniera tale da avviarsi automaticamente in risposta a un determinato evento, ad esempio quando l'utente si disconnette, quando lo schermo è bloccato, quando il PC viene acceso e così via. Attraverso un unico pannello di controllo dashboard, è possibile amministrare le procedure di backup di tutti i sistemi sui quali è stato installato l'agent di C2 Backup, un software leggero e con un impatto minimo in termini di risorse impegnate che si occupa di sovrintendere le attività di backup. C2 Backup utilizza backup incrementali per ottimizzare lo storage cloud e l'utilizzo della larghezza di banda. In questo modo, dopo un primo upload più impegnativo, è possibile ridurre significativamente la quantità di dati caricati limitandosi all'aggiornamento automatico delle informazioni che hanno subito delle modifiche. In questo modo i backup risulteranno veloci ed efficienti e, soprattutto, l'utente potrà utilizzare il caro approccio set and forget. Due punti una volta impostato il sistema, penserà C2 Backup a creare e gestire i backup in totale sicurezza. La soluzione di Synology offre un ripristino dei dati su misura dell'utente. Conservando più backup sul cloud è possibile scegliere quale recuperare o semplicemente navigare all'interno del contenuto per ottenere le precedenti versioni di file cartelle. Dal punto di vista della sicurezza tutti i dati degli utenti vengono memorizzati sui server Synology usando la criptografia End2. End, viene chiesto di impostare una chiave criptografica C2 Encryption Key, che è salvata in locale e che Synology non può conoscere. Al momento della registrazione viene anche generato un codice di recupero utile nel caso in cui si smarrisse la C2 Encryption Key. Anche questo codice non potrà mai essere successivamente ricavato dagli archivi di Synology, entrambe le informazioni devono essere quindi custodite con la massima diligenza perché il team di Synology non sarà in grado di offrire alcun aiuto nel caso in cui questi dati venissero persi. Dopo aver installato i vari client di C2 Backup sui dispositivi da proteggere basta cliccare sul singolo device nella schermata principale. Del pannello di controllo web del servizio quindi scegliere Modifica Criterio Backup. Per impostazione predefinita C2 Backup effettua un backup completo di ciascuna macchina e delle unità esterne. È tuttavia possibile impostare uno o più criteri di backup personalizzati. I backup sono per default giornalieri ma è possibile, così come accennato in precedenza, specificare qualunque periodicità o definirli in risposta a un evento trigger. In termini di versioning, l'ultima schermata della configurazione permette di specificare per quanto tempo conservare i backup e quante versioni mantenere salvate sui server cloud di Synology. C2 Password, un gestore di credenziali sicuro, affidabile e sempre disponibile. Secondo i risultati di uno studio diffuso da Synology, ciascun utente può arrivare a creare in media 200 credenziali di accesso nel corso della sua vita. Creare password sicure è essenziale ma tenerle a mente è assolutamente impossibile. Annotarle su supporti cartacei è altamente sconsigliato perché possono essere sottratti o comunque cadere nelle mani di utenti non autorizzati. Abbiamo già visto, inoltre, quanto sia semplice trovare le password salvate in un PC Windows e quanto i browser web non siano strumenti sicuri per memorizzare le proprie credenziali di accesso. Si possono utilizzare meccanismi per salvare le password all'interno di archivi cifrati sui singoli dispositivi per poi sincronizzare le informazioni tra i vari sistemi che si utilizzano ma non tutti gli utenti dispongono delle competenze per farlo e sono costantemente in cerca di una soluzione di più semplice utilizzo. C2 Password è uno strumento all-in-one che aiuta gli utenti a memorizzare, in un luogo sicuro, credenziali di accesso, documenti di apostrofo, identità, informazioni bancarie e finanziarie, dati di pagamento, note personali e molto altro ancora. La piattaforma si basa sulla stessa tecnologia di C2 Backup, sfrutta la criptografia end-to-end impedendo a tutti i soggetti non autorizzati l'accesso ai dati personali e riservati di ciascun utente. Il piano gratuito di C2 Password consente di memorizzare in sicurezza fino a 10.000 informazioni di accesso con la possibilità di sincronizzarle tra tutti i propri dispositivi. Il piano a pagamento consente di condividere gli elementi conservati sul cloud con più utenti, cosa particolarmente utile quando si lavora in team e si ha la necessità di accedere alle medesime credenziali. Un'estensione per il browser, installabile al momento della configurazione di C2 Password, consente di avvantaggiarsi della funzione di compilazione automatica dei moduli di login sul web. Per importare le password e in generale le proprie credenziali di accesso è possibile utilizzare un file CSV generato con altri password manager. Ovviamente tale file dovrà essere cancellato in modo sicuro dal disco wiping a livello di file, non appena si sarà conclusa la procedura di importazione delle password su C2. Ad oggi C2 Password è compatibile con Chrome, Edge con iOS, prossimamente il supporto sarà esteso a Firefox, Safari e ad Android. Come funzionalità accessorie, C2 Password integra un generatore di password per creare password sicure e la funzione trasferimento. File che eredita le principali caratteristiche di C2 Transfer. Questo strumento permette di inviare file ad altri utenti specificando limitazioni sul numero di download, date di scadenza e filigrane. Per maggiori informazioni, è possibile fare riferimento al sito di Synology C2, il cloud per dati sicuri. Per maggiori informazioni, è possibile fare riferimento al sito di C2, il cloud per dati sicuri.